Incidente stradale ad Agrigento, lungo la statale 640, morto un ragazzo di 25 anni. La strada statale 640, Agrigento-Caltanissetta, in Contrada-Gasena, al chilometro 12, appena fuori la città dei Templi, dove hanno ucciso il giudice Rosario Livatino. Ecco l'automobile incidentata, è una Kia, già caricata sul carro a trezzi. A bordo è morto sul colpo Francesco Mallardo, 25 anni, originario di Aversa, in provincia di Caserta, a lavoro ad Agrigento. La sua auto, fuori strada, ribaltata, in una scarpata, sotto la carreggiata, è stata scoperta questa mattina. Un poliziotto della stradale sventola la bandiera rossa e invita alla prudenza. Il mezzo è stato rimosso, il traffico procede senza intoppi. La telecamera bussa allo sportello ed entra dentro l'abitacolo della Kia. I poliziotti sono al lavoro, i rilievi di rito, il verbale di quanto è accaduto, forse tra le ultime della notte e le prime ore del mattino, quando la visibilità sarà stata ridotta, quando l'asfalto sarà stato ancora scivoloso a causa della pioggia, quando forse lo sfortunato ragazzo sarà stato stanco. Eccoli qui, sono i segni che testimoniano la sbandata, l'auto che impazzisce, fuori controllo e si schianta contro il guardrail. Ecco il luogo dell'impatto, qui, ai piedi di un crocifisso e di una statuetta della Madonna, con delle scritte in eslavo, in omaggio a tale Francisco o Franco Bodgan. Ancora i particolari dell'automobile sinistrata, sotto, tra le ruote, impantanate prima del recupero. Poi ancora il paraurti posteriore, un cerchione di velto. Poi il vetro frantumato. Poi il vetro frantumato.